Che cosa si intende oggi per storytelling? Che cosa pensi tu che sia lo storytelling? Beh, fondamentalmente abbiamo due risposte a questa domanda. Una prima risposta riguarda in realtà quello che non è esattamente lo storytelling, ma più propriamente potremmo chiamare la comunicazione, una comunicazione che arriva direttamente al tuo cliente o a chi pensi che potrà essere il tuo cliente per colpirlo, per emozionarlo, per dargli immediatamente un messaggio che sia comprensibile, che sia decodificato rapidamente e che arrivi al prodotto che tu hai realizzato perché ovviamente vuoi vendere quel prodotto. Questo ha a che fare con la pubblicità. Lo storytelling non è esattamente questo, non ha a che fare direttamente con la pubblicità. Lo vedremo perché. Ma diciamo questa pubblicità è necessaria? La devi fare? Beh, dipende dall'attività che svolgi, ma diciamo che in generale anche una semplice fotografia, un poster, un messaggio radiofonico, per non arrivare necessariamente al grande clip che viene trasmesso sui canali televisivi e sociali, beh, questo ti può essere utile quando tu vuoi trasmettere qualche cosa di chiaro, di preciso, che il cliente o il tuo futuro cliente è in grado di decodificare chiaramente, un messaggio semplice ed efficace. Per esempio, divieto di sosta. Divieto di sosta è un messaggio chiaro, semplice, rappresentato da un simbolo. Ecco, la pubblicità è un po' questo, poi naturalmente viene abbellita con tanti elementi, ma deve creare un impatto, deve essere chiaro il messaggio che rappresenti. Poi c'è un'altra idea di storytelling, che è quella per la quale la narrazione nasce a partire dalla documentazione del tuo lavoro e quindi verrai seguito nella tua attività, nel tuo stabilimento, nella tua impresa, si racconteranno come le idee sono sorte per creare un determinato prodotto, come questo viene realizzato, come viene distribuito, come sono soddisfatte le persone che usano questo prodotto e addirittura si potrebbe raccontare anche quali problemi hanno risolto le persone con il prodotto che tu hai realizzato. Questo si avvicina allo storytelling, viene chiamato normalmente storytelling. Io preferisco chiamarlo documentario, è una documentazione di quello che tu fai, è una documentazione interessante, è una documentazione che può essere utile, per esempio nel caso in cui tu debba partecipare a una fiera, a un'esposizione, in questo caso tu potrai proiettare questo filmato, le persone lo potranno vedere e capiranno determinati meccanismi, va bene, va bene, è utile. Abbiamo parlato di due cose che sono utili e che vengono annoverate nel grande calderone dello storytelling, ma il vero storytelling, la narrazione, la vera narrazione non ha a che fare con questi due prodotti che sono quello che tu e tante altre persone pensano che sia lo storytelling. Perché non ha tanto a che fare con questo? Beh, ragioniamo, ragioniamo attraverso una metafora, un esempio. Tu sei attirato da una persona, quindi cercherai di invitare questa persona per conoscerla, per esempio a fare una passeggiata o a vedere un museo, un'esposizione o addirittura cena. Cercherai di fare in modo che questa persona ti conosca e tu cercherai di esprimere cura nei confronti di questa persona. non potrai dire a questa persona subito, anche se tu sei stato colpito da un fulmine, non potrai dire a questa persona, ah, sono profondamente innamorato di te, è la prima volta che ci uscirai insieme. Non lo potrai fare anche se in realtà è vero che tu possa provare un sentimento simile, perché allontaneresti questa persona, preoccuperesti questa persona. curioso, perché si dovrebbe preoccupare e si dovrebbe allontanare? Beh, prima di tutto perché non c'è una conoscenza reale, tu esterni un sentimento importante e non hai dato il tempo a questo sentimento di essere coltivato e non hai dato il tempo a quella persona di conoscerti e capire che tu sei in grado di coltivare questo sentimento. Quindi cosa cercherai di fare? La emozionerai, cercherai di fare in modo che lei apprezzi le tue qualità, quindi dovrai mettere in risalto queste qualità e lo dovrai fare per un certo periodo di tempo, fino a che non verrà il momento di esternare i tuoi sentimenti. Dovrai emozionare prima di costruire, emozionare per costruire. Però attenzione, pensi veramente che tu potrai costruire una relazione duratura con questa persona, una relazione che dura dei mesi, degli anni, che dura vent'anni, che dura trent'anni con questa persona solo a colpi di emozioni, solo proponendo degli effetti speciali? E pensi che lei possa fare altrettanto per tutto questo periodo di tempo? Io ti dico di di no, di no per un semplice motivo che uno dei due prima dell'altro schiatta, schiatta con un colpo apoplettico perché non può reggere la tensione continua di emozioni che vengono proposte una dopo l'altra per tenere su una relazione. È impossibile questo, assolutamente impossibile. Dunque, per costruire una relazione non hai bisogno degli effetti speciali, non hai bisogno delle emozioni, hai bisogno di esternare dei sentimenti e su questi sentimenti costruisci qualcosa. Solo i sentimenti possono rappresentare una durata nel tempo tale da permetterti a te e alla persona alla quale sei interessato di costruire una relazione duratura. Solo i sentimenti. All'interno di questi sentimenti, all'interno di questo periodo storico, certo ci saranno dei momenti emozionanti e questi momenti rimarranno nel ricordo non perché sono dei momenti emozionanti in sé, ma perché sono dei momenti emozionanti legati a un sentimento che quello sì fonda il pilastro di una relazione. Tu non ricordi delle emozioni che hai provato occasionalmente di fronte dei messaggi pubblicitari o a determinati film o libri che hai letto, non ricordi le singole emozioni, a meno che queste non siano legate a una struttura di sentimento duratura. Allora sì, allora anche le emozioni vivono nel tempo di questi sentimenti. Dunque che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che fondamentalmente la comunicazione si divide in due campi. Un campo nel quale è fatto di tutto per emozionare, colpire, sparare, suscitare effetti speciali, per poter catturare le persone, per poterle catturare quell'istante. E c'è un altro campo con il quale invece si costruisce, si costruisce un'attività, un'attività tra una persona, un'altra persona, in questo caso tra te e il tuo possibile cliente, si costruisce un'attività comune. Oh bella, tu mi dici ma che attività comune si costruisce? Perché io produco, quella persona compra e questa è l'attività che intendi? No. Questo tipo di attività riguarda il primo campo. Io emoziono, stupisco, porto all'acquisto, poi vengo dimenticato, poi vengo paragonato a tanti altri che producono la stessa cosa. Secondo caso, io costruisco, racconto, catturo la persona perché questa persona vede che c'è qualche cosa di più importante che non delle semplici emozioni, acquisterà i miei prodotti, ma li acquisterà non perché è folgorata sulla strada di Damasco in quel momento, ma perché abbiamo costruito un rapporto ed è un rapporto attivo, perché il racconto, il racconto, la narrazione sono circolari. Io dico qualche cosa, la persona aggiunge qualche cosa d'altro. Vedi, io mi trovo qui in quest'angolo, questo è un angolo di casa mia, avrei potuto essere in un ufficio, anzi mi hanno proposto di realizzare questo filmato in un ufficio, in una bella scrivania, davanti a una bella scrivania, magari un po' vuoto, minimalista, con pochi oggetti, ma di che cosa io avrei parlato in quella condizione? Io in quella condizione avrei parlato semplicemente di che cosa produco e del perché a te potrebbe interessare. Cioè avrei cercato di vendere il prodotto. Beh, tu mi dici, ma hai detto all'inizio che questo video serve per vendere questo prodotto? Certo, perché voglio essere onesto, serve per questo, sono qui per vendere quello che faccio. Ma questo non basta, non basta. Io voglio che tu capisca che dietro quello che io faccio c'è una storia e allora abbiamo qui degli oggetti. degli oggetti che a te cosa rappresentano? Rappresentano degli oggetti. Questa stampante è una stampante. Questo frigorifero, che sarà strano forse trovarlo in questo ambiente, è un frigorifero. Questi sono dei libri. Che cosa ti possono rappresentare se non una stampante, un frigorifero e dei libri. Ma per me, per me sono delle storie. Dietro ogni oggetto c'è qualcosa. Tu non lo sai che cosa c'è, io sì, tu no. Ma nel momento in cui tu mi vedi qui, nel mio ambiente, fra gli oggetti che io amo e che ricordano anche le persone che io amo, tu capisci qualche cosa che va al di là di quello che io produco. Tu capisci che io sono un essere umano con la sua storia. E se questa storia è una buona storia, se questa storia è una storia ricca di sentimenti, se questa storia è una storia ricca di passioni, di cura per le persone, allora tu capirai anche che qualsiasi cosa io produca, questa cosa avrà un grande risultato e sarà arricchita, sarà valorizzata da tutto questo che oggi qui, in questo piccolo spazio, mi circonda. Se tutto questo non ci fosse, tu vedresti solo un prodotto. E come lo giudicheresti? Prendiamo il caso delle automobili, le automobili. Prendiamo questo caso, la produzione automobilistica. Vedi, dietro ogni comunicazione che ha a che fare con la produzione automobilistica, si dice che ci sia una storia che viene raccontata e allora tu vedi queste bellissime automobili tenere la strada, fare delle curve in paesaggi incredibili dove forse ti piacerebbe anche andare. Ma queste storie raccontano tutte una sola identica storia. La storia della bellezza, di questa automobile, la storia delle cose incredibili che può fare e grazie a questo tu sarai spinto ad acquistarla. Ma questo vale per un marchio, vale anche per il marchio Y, vale per il marchio Z, vale per tutti i marchi. Negli anni 70 le automobili erano squadrate, erano delle linee, delle linee dritte che si intersecavano. Oggi sono curve, sono bombate. C'è stato uno studio. Chi ha realizzato questo studio? Non lo so, non mi sono documentato, non te lo saprei dire, ma qualcuno ha cominciato. Ha cominciato qualcuno e tutti hanno fatto la stessa cosa e noi abbiamo delle automobili tutte uguali, con delle piccole differenze. Forse qualcuno spicca, ma sono automobili tutte uguali. Raccontano tutte la stessa storia. Eppure deve esserci qualche differenza. Deve esserci qualche differenza nel modo con cui questi prodotti vengono realizzati, nel modo con cui sono concepiti, nella passione che gli uomini ci mettono per realizzarli, per proporteli. La passione che loro ci mettono per proporteli. I sentimenti che entrano in gioco, beh, deve esserci qualche differenza. Eppure questa differenza non viene raccontata. Una persona non vede, non legge, non ascolta una storia perché mette in mostra un prodotto. Lo fa perché ci sono degli effetti che la catturano, certo. Ci sono degli artifici, delle magie che la tengono attenta per alcuni secondi, forse alcuni minuti. Ma le persone ascoltano le storie perché si identificano non con l'oggetto, ma con altre persone, con altri esseri umani. Tu puoi vedere un film di automobili. È stato realizzato. Vedi questi automobili che parlano. Vedi questi automobili che esprimono dei sentimenti, si innamorano, corrono, fanno delle cose, si stupiscono, devono affrontare degli ostacoli. Sono automobili? No, non sono automobili. Queste sono persone. Sono oggetti antropomorfizzati. Cioè sono oggetti che hanno delle caratteristiche umane. Ed è per questo che questa storia piace. Ed è per questo che un bambino, ma anche la sua famiglia, quando vanno al cinema e vedono questo bellissimo film in 3D, si identificano con questa storia. Ma nessuno si identifica in un'automobile se quest'automobile non rappresenta un essere umano, se non condivide le sue stesse sensazioni, le sue stesse emozioni, sentimenti, se non è antropomorfizzato. Gli esseri umani si identificano e seguono solo le storie di altri esseri umani. Il perché è semplice? Perché pensano che il mondo possa essere migliore, possano esserci delle sfumature o addirittura delle prospettive radicalmente diverse, che loro non possono immaginare nel loro ambiente. E per questo le storie raccontano sempre dei valori universali, ampi, grandi, nei quali tutti si possono identificare. Questo è lo storytelling che io vorrei fare con te. Quindi possiamo realizzare tre prodotti insieme. Il primo, lo spot, lo spot che colpisce, che è fondato su emozioni, effetti speciali, che deve realizzare immediatamente qualche cosa che attiri l'attenzione, che sia limitato come durata, che colpisca. Però attenzione, non è il classico spot. Noi non faremo questo. Noi faremo qualche cosa che ispira. Noi faremo qualche cosa che tenderà a suscitare o a richiamare l'esistenza di quei sentimenti che poi costruiscono la storia. Perché lo spot deve essere una specie di tassello dentro un puzzle che noi costruiremo. E quindi il tuo cliente, la persona che guarderà questo spot, dovrà avere la sensazione di essere davanti a un discorso che in quel momento sta cominciando, oppure che ha raggiunto un certo apice. Ma non di fronte a qualche cosa che è destinato a decadere, a scomparire dopo essere stato visto, dopo essere stato utilizzato. Poi abbiamo il documentario, quello che tu chiami normalmente documentario e che rappresenterà la tua attività, le azioni che tu svolgi per compiere il tuo lavoro. Ma questo documentario non sarà esattamente un documentario. Non sarà il classico cliché istituzionale che ti viene appiccicato e che alla fine è scandito attraverso tappe che sono quelle che vengono inserite in ogni documentario. No, perché anche in questo caso questo prodotto deve far parte di un discorso. Non ti voglio dire che se tu scegli un prodotto poi sei costretto a utilizzarne anche altri per completare il discorso. Non ti dico questo. Ti dico però che il concept, la concezione, l'ideazione di questo documentario deve avere a che fare con la storia. Deve avere a che fare con qualche cosa che mette in luce il fatto che noi stiamo rappresentando un momento, un momento di produzione, un momento di creazione, ma questo fa parte di un contesto molto più ampio. E qui veniamo alla terza possibilità, quella che è realmente l'oggetto di questo video e della quale ti ho parlato, e cioè il vero storytelling, la vera storia da raccontare attraverso una costruzione, attraverso un dialogo, attraverso l'ascolto, attraverso il fatto che insieme recupereremo degli elementi che costruiranno questo discorso nel tempo. Tu vorresti parlare di budget, quanto costano questi prodotti? Io ti dico questo. Abbiamo qua un romanzo, un libro che si legge e da questo libro viene tratto un film. Abbiamo dei costi radicalmente diversi. Il costo della scrittura è un costo quasi pari a zero, un costo nel quale rientrano gli elementi affinché l'autore possa sopravvivere durante le giornate della sua scrittura. Poi abbiamo un film, la realizzazione di un film tratto da questo romanzo, un costo eccezionale, incredibile in rapporto a quello che la scrittura comporta. Eppure tu hai letto il libro, tu vedi il film, esci dalla sala cinematografica e dici è carino. Tu dici è carino. Un modo elegante per dire che questo film non ti ha soddisfatto. Ed è sempre così. Perché il romanzo ti ha appassionato, il film no. Il film è semplicemente carino. Un grande budget per avere uno scarso risultato. Un budget molto piccolo che ha entusiasmato milioni di persone. Perché? Perché il libro è parola, è un testo e la parola è un significante. Vuol dire che il significato lo attribuisci tu alla parola. Il film invece è un significato. Tu vedi quello che è rappresentato. Nel romanzo lo devi immaginare, nel film lo vedi. Nel romanzo tu partecipi alla lettura, tu partecipi attraverso la lettura alla costruzione della storia. Perché la immagini, perché sono parole, parole che rappresentano dei significanti nel film. Invece tu vedi la realizzazione di qualcun altro. Frank entra in un bar. Vede John. Vuoi da bere John? No, grazie. Sono a posto, Frank. Frank. Arriva il cameriere. Buongiorno, Frank. Buongiorno, cameriere. Quale bar? Chi è Frank? Com'è vestito? Che faccia ha? Quanti anni ha? John? Che tipo di bicchieri hanno? E il cameriere? E il bancone del bar? E c'è luce? Che tipo di luce c'è? Tutti questi elementi? Anche se in un romanzo fossero descritti dei minimi dettagli, beh, tutti questi elementi comunque tu li dovrai sempre immaginare. Dovrai partecipare alla costruzione di questa storia. Ma se vedi il film, il film è tratto da questo romanzo, tu vedi esattamente quello che dice il romanzo, raffigura il romanzo? No. Tu vedi quello che è nella testa del regista, dello sceneggiatore, del direttore della fotografia, vedi il loro immaginario, vedi come loro hanno pensato a un determinato bar, a un determinato bicchiere, vedi loro come hanno vestito e calzato Frank e John e non tu. E siccome questo non corrisponde, questo non corrisponde alla tua visione del romanzo, perché sei di fronte a un'altra visione, ecco che allora il risultato è sì, carino. Carino perché non è tuo. Questa storia è tua, quella no. Dunque, che cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che noi possiamo coinvolgere le persone con un budget molto basso, basta un testo, basta un testo. Non è necessario spendere delle cifre enormi per realizzare qualche cosa che poi risulta semplicemente carino. E allora perché noi poniamo queste scelte, film, radiodrammi, graphic novel, romanzi, animazioni, 3D, sketch note, c'è un mondo attraverso il quale si può comunicare. Perché diciamo, ecco, scegliamo insieme attraverso quale modo? Beh, perché questo dipende, dipende dai contenuti che vuoi raccontare, dipende dall'ambiente in cui ti trovi, dipende anche dai tuoi interessi personali. Perché ciò che tu racconti è come un vestito che ti deve calzare e te lo devi sentire. Se tu ti senti più a tuo agio nel raccontare una determinata storia attraverso un determinato mezzo di comunicazione, ci ragioniamo. Potrebbe essere giusto, potrebbero invece aprirsi altre strade, altre prospettive. Questo dipende. Noi ragioniamo. Ragioniamo però affinché il risultato sia sempre questo, cioè il coinvolgimento delle persone attraverso il loro immaginario, perché così si crea una relazione. Noi vogliamo una relazione, non vogliamo un rapporto di una serata, per quanto emozionante e fantastico sia. Non vogliamo entrare nel bar di John e Frank, trovare una persona e trascorrere una serata meravigliosa con questa persona e poi non rivederla più. Non vogliamo questo. Vogliamo che quella emozione sia inserita dentro un grande contesto. E un grande contesto è una grande storia. Noi vogliamo costruire una grande storia. E una grande storia non dipende da un grande budget. Grande budget non significa grande storia, non significa grande successo. Guarda quanti fallimenti in questo campo ci sono nonostante i grandi budget. Guarda quanti successi ci sono nonostante budget più piccoli. Ma su questo ragioneremo. E ragioneremo in base certamente alle tue disponibilità. Che non sono l'unica cosa, ma sono una cosa importante. Perché le tue disponibilità economiche devono essere rispettate. E quali che siano le tue disponibilità, attenzione a quello che ti dico, quali che siano le tue disponibilità, noi una soluzione la troviamo sempre. C'è sempre un modo per raccontare. Sempre. Potrebbero essere anche piccole frasi, piccoli biglietti con un costo irrilevante. Questo dipende dalle scelte che faremo e dal fatto che queste scelte siano coerenti con quello che tu esprimi come persona, come essere umano. Il tuo team esprime come persone, come esseri umani, le persone che lavorano con te. Quindi dal fatto che ci sia la possibilità di raccontare una storia. Io dico sempre raccontare una storia, ma le storie possono essere tante da raccontare, perché nel momento in cui c'è un contenuto, questo contenuto può essere rappresentato in tanti modi. Pensa. Qual è la storia d'amore madre di tutte le storie d'amore? Sono due. Paolo e Francesca, Romeo e Giulietta. E quante volte queste storie sono state raccontate in modo diverso e hanno sempre avuto successo se sono state raccontate bene. Perché? Perché rappresentano degli archetipi universali. Rappresentano la storia d'amore, che poi può essere declinata in tanti modi. Quindi anche con te noi troveremo dei valori, troveremo dei sentimenti, troveremo qualcosa da raccontare che può essere raccontato in molti modi diversi. Ecco perché dovremmo scegliere. E queste scelte si faranno mettendo insieme varie considerazioni, una delle quali certamente è il budget. Questa è la mia risposta a quanto costano questi prodotti. E ti dico anche un'altra cosa. Io non posso presentare un catalogo di prodotti che tu puoi comprare. Perché questo sarebbe calare dall'alto. Calare dall'alto una struttura di storia. Una serie di strutture di storie che tu scegli da un catalogo. No, questo significa avere un pregiudizio nei tuoi confronti. Cioè partire dal fatto, dal presupposto che tu non abbia niente da raccontare. E quindi io racconti al tuo posto. Io ti presenti delle soluzioni. No. Noi racconteremo insieme, le soluzioni le troveremo insieme. E studieremo insieme il modo di raccontarle. Per questo non c'è un catalogo. O meglio, ogni soggetto con cui ho a che fare alla fine può costruire il suo catalogo. Ma è il suo catalogo di prodotti. Specifico per lui. Questo è quello che noi faremo insieme. Perciò ti dico, chiamami. Parliamoci. Incontriamoci. A te non costa niente. Incontrarmi non ti costa nulla. Tu mi chiami, io vengo. E noi parliamo. Può anche darsi che il secondo colloquio, il terzo colloquio anche, non ti costino nulla. Perché? Perché può darsi che io mi appassioni a te, a quello che fai. Non capita sempre. Dipende da chi sei, da quello che fai. Ripeto, non capita sempre. Non lavoro per tutti. Lavoro solo per le persone come te, che sono in grado di esprimere dei contenuti significativi, importanti. E se tu li esprimi, può darsi che io mi appassioni. Ti dica, andiamo avanti con questi incontri, voglio capire. E poi ti faccio delle proposte. Allora in questo caso poi, tu potrai scegliere e potremmo discutere. Ma anch'io ho bisogno di stabilire una relazione. Io non ho un negozio. Dove tu entri e acquisti questo, quello, quell'altro. No. Io ti offro un rapporto. Da questo rapporto può scaturire un prodotto, oppure niente. Oppure può scaturire l'idea che forse un domani faremo qualcosa. Sono io a deciderlo? Sei tu a deciderlo? Può darsi che a te non piaccia questa relazione? Può darsi che tu abbia delle idee di un certo tipo, che magari neanche io condivido e quindi sarà stata una conoscenza interessante, ma ci saluteremo. Perché, ripeto, io non sono obbligato a vendere quello che faccio. Io propongo che venga acquistato. Questo filmato serve per questo, per dirti, guarda, questo è quello che faccio. Ti interessa? Lo puoi comprare. Ma, paradossalmente, io non sono qui per dirti compra questo prodotto. Perché al momento attuale non ho nulla da venderti. Ho una relazione da costruire con te, una conoscenza da approfondire. Poi, su questa base, vedremo e decideremo. Grazie.